Ciao, oggi vi mostrerò una ricetta molto facile che di solito preparo con i miei figli, dolcetti al cocco. Adesso vediamo gli ingredienti. 400 g di ricotta, 150 g di zucchero, 150 g di cocco grattugiato, 50 g di cacao, dei pilottini di carta piccoli per dolci e una confezione di codette di zucchero colorate. Aggiungo lo zucchero nella ricotta. Aggiungo metà della quantità del cocco, più o meno, e vado a mescolare. Se non è consistente, aggiungete ancora altro cocco. Adesso vado a formare delle palline e vado a passare nel cocco grattugiato. e vado a mettere dentro i pilottini. Aggiungo con il barato. le preparo un po' passandone nel cacao adesso vado a farlo un po' con le codette di zucchero ecco i dolcetti al cocco pronti spero che questa ricetta vi sia piaciuta ci vediamo al prossimo video ciao